I cittadini di Premaore, frazione di Camponogara, annunciano battaglia dopo una affollata assemblea pubblica per contestare l'arrivo di dieci profughi in un rudere fattiscente e a detta del neonato comitato al centro di un'area inquinata che dovrebbe essere sottoposta a bonifiche ambientali. Il sito è completamente insalubre nel senso che l'immobile non è agibile, non ha il tetto, le travi sono crollate e inoltre persistono nell'area numerosi frammenti di amianto e di fibra di amianto. Il luogo di proprietà privata è stato proposto dall'unica cooperativa che ha aderito al bando e messo in agosto dalla prefettura per alleggerire la base di cona dal sovraffollamento di migranti e venire incontro ai continui aumenti delle quote stabilite dal ministero. Aspetterebbe al comune fare le dovute verifiche e le verifiche sull'agibilità del luogo perché effettivamente gli immobili considerati nel bando non sono agibili. Accogliere persone in queste condizioni non è rispettoso della dignità umana, sostengono i cittadini e in più il rischio di diffondere sostanze inquinanti a concreto e reale. C'è un inquinamento gravissimo causato dalla manipolazione, sfraccionamento e hanno fatto polvere pezzettini di amianto su tutta la proprietà che tra l'altro confina col fiume e cornio che è un importante canale di irrigazione per l'agricoltura della zona e quindi è una bomba ambientale. Gli operai erano in ciabattine e canottiera qui a lavorare domenica. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine che hanno provveduto a bloccare il cantiere, però è anche la nostra salute che vogliamo prima di tutto porre all'attenzione delle autorità. I cittadini si rivolgono al sindaco Gianpietro Menin perché si opponga alla decisione della prefettura. Il comportamento del prefetto della prefettura è che se fosse su una dita privata si è vicinziato e buttato fuori a calci perché non esiste una gestione di questi appalti fatti così contro certificazioni di luoghi salubri quando vediamo che sono luoghi che nessuno di noi potrebbe andare a vivere. non possiamo certo tenere i doni. C'è una gestione di questa cosa che è veramente al limite del criminale.